Sono state ufficialmente ammesse le nove candidature a presidente della regione Umbria e le 23 liste presentate per le elezioni regionali in programma il 17 e 18 novembre. Lo ha stabilito l'ufficio unico circoscrizionale di Perugia, che ha anche provveduto a svolgere il sorteggio per determinare l'ordine dei nomi che compariranno sulla scheda elettorale e sui manifesti. Il primo candidato sarà Giuseppe Paolone, in corsa con la lista Forza del Popolo. A seguire, in seconda posizione, Marco Rizzo, candidato per Alternativa Riformista e Democrazia Sovrana e Popolare. La terza posizione è stata assegnata a Martina Leonardi, con la lista Insieme per l'Umbria Resistente. Al quarto posto compare Elia Francesco Fiorini, candidato per la lista Alternativa per l'Umbria, mentre il quinto candidato è Giuseppe Tritto, sostenuto dalla lista Tritto Presidente, Umani Insieme Liberi. La sesta candidata è l'attuale presidente in carica, Donatella Tesei, sostenuta da una coalizione composta da diverse liste, Udc, Alternativa Popolare, Lega, Noi Moderati, Civici per l'Umbria, Tesei Presidente, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Al settimo posto figura Stefania Proietti, candidata per una coalizione formata da Umbria Domani, Civici Umbri, Umbria per la Sanità Pubblica, Partito Democratico, Umbria Futura, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Moreno Pasquinelli, del fronte del dissenso, si presenta in ottava posizione, mentre chiude la lista dei candidati Fabrizio Pignalberi, sostenuto dalle liste Quinto Polo per l'Italia e più Italia sovrana. Il sorteggio, svolto nella mattinata di lunedì, ha dunque definito l'ordine con cui gli elettori Umbri troveranno i nomi dei candidati e delle rispettive liste sulla scheda elettorale. Il panorama politico si presenta eterogeneo, con una vasta offerta che va dalle forze di destra a quelle di sinistra, passando per candidati indipendenti e movimenti civici.